La nipotina! Ma vi siete mai più sentiti con la nipotina? Sì! Ciao! Ma tante volte con Facebook nel verso d'Artovalla? È sparita! È sparita? Peccato perché... Cioè una ragazza in gamba mi sembrava educata, a modo, no? Ehi là, ti ho portato il vino! La portatevi al lupo! Lupo? Lupo! E due gita, del bosco? Sono Marte, scusate! Io so, Gigo, perché adesso... Cioè, sarà una signora di una certa età, distinta, per bene... Potrebbe essere anche di... Eh, in modo di avere un'anima gemella adesso, no? Ti ricordi come si chiamava? Katia! Ma il nome è vero! E te, 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 di ricami lo beccari sul film! Grazie Katia, grazie! Ci volevi proprio tu! Che ci ha offerto da bere! Grazie tante! Grazie di poco! Liuba? No, Katia... No, Katia de Mosca! Guarda, famo... Famo un appello, tante volte il vedi! Allora, Angelo Farneti, che era Camillo Beccari, vorrebbe... Che vorresti fa? Sì, come si chiamava sul film? Carissimo Diario! No, sì, il film... Ma sta signora, come si chiamava? Katia! Allora, chiamala, di Katia, se stai vedendo questo filmato? Katia, se stai vedendo questo filmato, viene a Guglia! Oppure su Facebook, Angelo Farneti, giusto? Oppure su Facebook, Angelo Farneti! Ti piacerebbe rincontrarla, no? Ma per te, in pasticcini, così, no? Tanto ormai altro non si può fare, no? No, se c'è qualcosa di meglio, io sono disposto... Quindi ti piacerebbe rincontrarla, insomma? A scatola chiusa, anche se non sai com'è diventata? No, la porto in albergo! In albergo? Dove l'albergo la porti? A Roma! A Roma? A Napoli, a Palermo! Eh, dove andaccio a Palermo, no? No, a Roma! A Roma, a Roma! A Roma, no! Eh, magari se lei è in Russia, vi vedete, a Roma, lei prende il volo, no? Eh, se no fa la vignanca Guglio! E se è Mosca, essa, quanto si! Quindi, Katia di Mosca? Katia di Mosca! Va bene, se sei in ascolto, guarda quanto è bello, Angelo! Mi è passato un anno! Anche perché fra di voi sei stato del tenero, no? Oh, grazie, grazie, piccola! Tenero o no? No, ma fa gru! Del duro, ci dice! La faccio divertimento! È stata una bella esperienza, no? Positiva! Se la rinasco ne farei 100, con giù! Ne è mai tardi, però! Adesso c'è tutto il filone old, no? Eh? Bella, grazie! Grazie! Signor Farneti, anche Camillo Beccari, buon appetito! Vedo che c'è un po' di pasta, insomma, così, è leggero oggi, no? Oggi solo pasta! Va bene, grazie Angelo! Ah, bello! Applausi ragazzi! Carissimo diario rimarrà anche per queste citazioni! Grazie a tutti! Grazie a tutti